Medici Senza Frontiere e che può rendere in qualche modo ambiguo il ruolo di un'organizzazione medico-umanitaria come quello di MSF se noi l'avessimo firmato. Il primo problema che abbiamo nella versione finale del codice riguarda le armi a bordo. Armi in particolare che potrebbero essere portate da ufficiali di polizia giudiziaria. Intendiamoci bene, Medici Senza Frontiere non ha nessun problema con la presenza di ufficiali di polizia giudiziaria a bordo. Già oggi accade, accade ogni volta che entriamo in porto e accade anche in altre occasioni. Il tema è la presenza delle armi ed è un problema che abbiamo ovunque nel mondo. Noi abbiamo quasi 500 progetti in circa 70 paesi e ovunque nel mondo facciamo di tutto perché le armi restino fuori ad esempio dai nostri ospedali. Lo facciamo in Afghanistan, lo facciamo in Congo, lo facciamo ad Haiti. Non si capisce perché non dovremmo farlo anche in una nave nel Mediterraneo. Il secondo problema che abbiamo riscontrato riguarda i cosiddetti trasbordi, ovvero la possibilità per l'appunto di trasferire e trasbordare persone che abbiamo salvato da una nave ad un'altra. Questa in realtà è una modalità fondamentale per assicurare la giusta flessibilità per chi interviene nella zona di ricerca e soccorso, nella zona dove ci sono i naufragi. Teniamo presente che l'insieme di tutte le navi che fanno ricerca e soccorso, io vi compresa la Guardia Costiera, molto spesso non è sufficiente. Molto spesso le nostre navi si trovano ad avere molte persone a bordo più di quante ne possano contenere, proprio perché non ci sono abbastanza navi. Faccio un esempio molto semplice. Noi abbiamo due navi come Medici Senza Frontiere. Complessivamente hanno una capacità di oltre 1200-1300 persone tra l'una e l'altra. Immaginiamo invece che un giorno abbiamo 30 persone a bordo di una e 20 persone a bordo di un'altra. Tornare in un porto sicuro, tornare verso l'Italia, comporta un viaggio di almeno 5 giorni fra andata e ritorno. Sarebbe assurdo che quelle due navi lasciassero la zona dei naufragi soltanto per portare un numero così piccolo, così basso di persone. Sarebbe molto più razionale fare un trasbordo e che soltanto una nave tornasse, ad esempio in Sicilia. Medici Senza Frontiere continuerà a salvare in vita i mare, continueremo ad essere presenti con le nostre due navi nel Mediterraneo. Ricordo che in questi due anni e mezzo ci siamo presi cura di quasi 70.000 persone, donne, uomini, bambini, che hanno intrapreso questo percorso così pericoloso. Non è che non firmando il codice di condotta siamo in una situazione di anarchia. Quel contesto, l'attività di ricerca e soccorso in mare, è un'attività strettamente regolamentata. Regolamentata da trattati internazionali, da norme internazionali e nazionali. E totalmente eseguita da MSF sotto il coordinamento della Guardia Costiera. Non solo, abbiamo preso l'impegno che oltre queste regole, che pure sono parte del famoso codice di condotta, anche le ulteriori novità che il codice ha introdotto e che non rientrano nei punti critici per noi, comunque anche quelle le rispetteremo, le rispetteremo uniletteralmente, l'abbiamo comunicato, l'abbiamo detto formalmente anche al Ministero. Ci sono due cose in conclusione che volevo sottolineare. La prima è che si parla molto in questi giorni di Medici Senza Frontiere nella sua attività nel Mediterraneo. Per noi è un'attività fondamentale, ma vorrei anche ricordare che rappresenta circa l'1% delle nostre operazioni a livello globale, nei 70 paesi del mondo in cui siamo. E l'altra cosa che pure tengo a sottolineare è che se oggi i Medici Senza Frontiere, come altre otto organizzazioni non governative, sono presenti in mare, non è perché ne trae qualche beneficio, ma è perché noi siamo supplenti di chi dovrebbe fare quel lavoro e non lo fa. E questo chi sono? Gli Stati europei, non l'Italia perché sarebbe ingeneroso chiederlo soltanto all'Italia, ma tutti quanti gli Stati europei dovrebbero impegnarsi in un dispositivo reale di ricerca e soccorso in mare. Invece questo non è accaduto, non sta accadendo, le persone continuano a rischiare la vita e fin quando questo succede Medici Senza Frontiere sarà là. Medici Senza Frontiere